La tenuta del governo è la tenuta del governo. Per me non c'è problema. Per l'esigenza del non tenuto. La tenuta del governo è la proposta di Galeccio. Allora, la tenuta del governo che è passato lo scolito del MIMU adesso tra lo scoglio delle corrette italianezioni. Lo stallo del governo per cui si riesce a questa situazione e la soluzione delle nomine dei costi di un periodo di vita può essere matrimonata? Io c'è l'interessore del stallo della politica. Ok. Perché mi sembra... Buonasera. Buonasera, sono Andrea Giambartonomei, sono un giornalista del Fatto Quotidiano. Questa sera vi presento, alla mia sinistra, il presidente merito della Corte Costituzionale, Gustavo Zagrelbeschi, nonché presidente onorario di Libertà e Giustizia. Alla mia destra, invece, c'è Giuseppe Civati, deputato del Partito Democratico e candidato alla segreteria del Congresso. Quando avverrà il Congresso? Ancora non lo sappiamo. Sta per incominciare una stagione politica che in questi mesi estivi è stata molto ferma, molto chiusa sui soliti discorsi per addetti ai lavori e politicanti. Abbiamo i due principali partiti che sono fermi sui soliti dibattiti. Da una parte c'è il PDL, arroccato nella difesa di Berlusconi, dall'altra il PD che è di nuovo fermo sulla discussione, sulla scelta del leader. E poi cosa succede? Succede che all'approvazione, quando si deve discutere della cancellazione dell'Imu, le cose vengono fatte male. Si perde un po' il punto di vista della realtà, con questa politica ferma su se stessa. Porgo la parola a Zagrebeschi. Innanzitutto grazie al PD torinese che mi ha invitato qui con Pippo Civati. Sono molto contento di essere con lui. Posso aggiungere, sarei stato contento di essere con chiunque altro, di essere con lui sono un pochino più contento. Naturalmente quando, poi sono grato, credo che anche tu devi essere grato al pubblico che ha corso così numeroso, ma quando ci si prepara per dire... quando ci si prepara per un incontro pubblico, il primo problema è come cominciare. Ecco, a me è venuto in mente un articolo del 1991, scusate, io sono per mestiere leggo e cerco di studiare. I nostri politici farebbero bene a leggere e studiare anche un pochino loro. E mi è venuto in mente questo articolo di Norberto Bobbio, che era il 1991. non si sente? Certo che se il PD comincia così... non fa sentire la sua voce. Questo articolo, il 1991, pubblicato sulla stampa, era intitolato La disfatta. Sapete di che cosa trattava? 1991. trattava del problema del partito politico o dei partiti politici in Italia impegnati a cercare posti e occupare posti in concomitanza con la discussione sulla riforma della Costituzione. Siamo lontani da quell'epoca? E naturalmente questo ricordo mi ha fatto piombare in un'atmosfera di... non di malinconia, malinconia è un sentimento rivolto al rovescio, ma diciamo di depressione. E le ragioni della depressione sono tantissime, tanto numerose che non so da che parte incominciare. e sono tanto gravi che francamente non capisco le ragioni per le quali molti nostri rappresentanti si presentano in pubblico ridendo allegramente. C'è poco da ridere. Perché tutti riconoscono che la situazione ci sta sfuggendo di mano, ci sta sfuggendo di mano dal punto di vista di chi è impegnato alla difesa della democrazia nel nostro paese. Ci sta sfuggendo di mano e ci chiediamo se siamo ancora in tempo. Questa è la domanda angosciosa. se siamo ancora in tempo. Noi guardiamo i nostri partiti che si baloccano con partiti tradizionali, che si baloccano sui sondaggi che danno un punto in più, un punto in meno, l'uno rispetto all'altro, e ignoriamo qual è il problema di fondo della democrazia che oramai circa il 40% dei nostri concittadini non va più a votare e un 25% vota un movimento che indubbiamente si pone in alternativa rispetto al modo tradizionale di fare politica dei partiti che conosciamo e che i partiti tradizionali considerano fuori una volta avremmo detto dell'arco democratico, cioè di quella zona della politica con cui si può trattare, mediare per costruire qualcosa. Ora, se noi sommiamo le due cifre ci rendiamo conto che il nostro sistema democratico, la nostra vita democratica si basa oramai su un fondamento debolissimo e che chi ha studiato qualcosa dei periodi tristi della crisi della democrazia in Europa nel secolo scorso sa che questa situazione è quella in cui si alimentano psicologie collettive che non sappiamo dove possono portare. Ecco, se volete questa è la base di depressione in cui io in questo periodo vivo, adesso speriamo che Pippo Civati ci faccia sorridere, ci tiri un po' su di morale. Adesso quanto tempo mi lasci per... Ecco, naturalmente noi siamo qui per sentire da lui delle parole che hanno a che vedere con la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico, questo non ce lo possiamo nascondere, ma io vi inviterei a considerare questa scala di priorità. Abbiamo un grave problema democratico, quello che dicevo. Abbiamo un grave problema politico perché da qualche anno in Italia non c'è più politica. La politica è l'attività degli esseri umani che è rivolta alle scelte. Si fa politica se si preferisce una cosa all'altra e si agisce per realizzare quella cosa piuttosto che un'altra. Allora, la anomala maggioranza che abbiamo non è una maggioranza politica in questo senso. Guardate quello che succede. È una formula di governo che... Può darsi che io sia troppo schematico, che mira ad un compito che politico non è ma è di conservazione dell'establishment. Io ho detto più elegantemente establishment. Ma guardate quello che è capitato con l'aiuto del sistema elettorale che ha impedito la formazione di una maggioranza chiara in particolare al Senato. Però si è costituito un governo che più contro natura di così non potrebbe essere dal punto di vista politico. Ha messo insieme le due formazioni che si sono affrontate lanci in resta nella campagna elettorale. Può darsi benissimo che fosse una soluzione obbligata. Può darsi... Non è questo che voglio dire. Non sto accusando nessuno. Sto dicendo che in Italia da qualche tempo non si fa più politica. Perché non si sa più scegliere. Dovendo stare tutti insieme semplicemente si mantiene lo status quo. E le misure governative che sono state prese sono state semplicemente delle misure per tenere in piedi la situazione che c'è. Ma di scelte non se ne fanno. Di politica non se ne fa. Se volete la rappresentazione più evidente e più diciamo anche umiliante per una classe politica è stata la rielezione del Presidente della Repubblica. E badate che qui lo dico del tutto indipendentemente dai giudizi che noi possiamo dare sul Presidente della Repubblica come persone. Quella è stata la raffigurazione plastica di una classe politica incapace di muoversi da dove era. Di andare un po' avanti. Per andare un po' avanti bisogna scegliere una direzione piuttosto che un'altra. E se volete io aggiungo sono rimasto particolarmente colpito che il Parlamento abbia salutato questo atto di dismissione delle proprie responsabilità politiche con quell'applauso fervente e commosso al discorso del Presidente della Repubblica che riempiva la Camera dei Deputati di una quantità di accuse pesantissime una contraddizione più in politica di così mi pare che non ci possa essere e poi stiamo procedendo rinviando rinviando nessuno di noi ricorda adesso il nostro moderatore poi mi taccio perché non sono io candidato alla segreteria del Partito Democratico sia chiaro nessuno di noi ricorda che è pendente in Parlamento la questione della ineleggibilità del senatore Berlusconi per la questione della titolarità delle concessioni legge del 1957 si è rinviato nessuno ne parla più adesso ci troviamo il 9 di pronte io penso scusate io penso che il governo non cadrà io penso che si arriverà a una dilazione si andrà avanti guadagnando tempo si andrà avanti rinviando rinviando ma badate io qui dicevo non in Italia non si fa politica in realtà si fa una politica e la politica è quella che si svolge giorno dopo giorno davanti ai nostri occhi e cioè licenziamenti chiusure di impresa ristrutturazioni tagli alla spesa sociale tutta questa è politica ma sembra che non ci sia alternativa politica non so avrò poi il modo di ritornare a parlare perché se no se no cioè l'impressione è che noi siamo che stia succedendo qualcosa che stia succedendo qualcosa di cui noi non ci rendiamo conto che questo blocco sia qualcosa di voluto e di funzionale e di funzionale a che cosa? beh nella sfera pubblica la sfera pubblica è la sfera del potere il funzionale ha qualche potere che noi non vediamo che sarebbe utile che qualcuno ci spiegasse che cosa è ma che noi non vediamo non vediamo chi sono i titolari di questo potere sono i mercati è la banca centrale europea è la pressione di gruppi anonimi le banche le banche sistema bancario mondiale la finanza mondiale la finanza mondializzata la finanza è quella zona di attività economica che si appropria altro che Marx che parlava di plusvalore dei capitalisti i capitalisti producevano plusvalore quelli buoni quelli che noi i Buddenbrock Thomas Mann producevano plusvalore per riversare quello che ottenevano in termini di plusvalore nella modernamento dell'impresa la finanza mondiale invece si appropria e spropria questo plusvalore per un gioco del tutto indipendente e noi quindi abbiamo di fronte uno scenario mondiale in cui le ricchezze dei potenti in questo sistema aumentano esponenzialmente e la povertà dei popoli aumenta in maniera proporzionale ecco qualcuno ci deve spiegare come funzionano questi meccanismi perché solo se noi li capiamo possiamo mettere in piedi delle politiche che servono a contrastarle concludo questo mio primo intervento con un riferimento a un mito ho avuto modo di mi è venuta in mente questa figura mitologica che è l'uroboro voi sapete che cos'è l'uroboro no ecco allora questo incontro di questa sera potrebbe avere un significato positivo anche solo perché uscendo da qui andrete a casa come diceva il pato tornate a casa Giovanni XXIII e dite ai vostri figli l'uroboro ecco l'uroboro è un un'immagine mitologica che troviamo dall'Egitto alla Mesopotamia è un serpente si dice che si morde la coda versione edulcorata di un'altra realtà il serpente che si alimenta si nutre dei suoi escrementi un'immagine straordinaria allora usciamo dalla metafora forse il sistema in cui noi viviamo è un uroboro l'uroboro è il potere il potere produce danaro e il potere si alimenta col danaro per la prima volta nella storia dell'umanità il danaro è diventato fino a se stesso per alimentare questo meccanismo in passato si spogliavano i popoli ponendo tasse imposte di ogni genere per costruire ponti per fare opere pubbliche per fare guerre per la gloria di una casata monarchica ecco ma oggi sembra che il danaro sia fine al danaro in questo meccanismo dell'uroboro è una bellissima e schifosa immagine come facilmente capite da bene idea secondo me del sistema chiediamoci guardiamoci attorno a cosa serve il potere oggi essenzialmente serve a produrre ricchezza per sé e la ricchezza aumenta il potere allora io credo che il primo compito di una forza politica che voglia avere una funzione di rinnovamento che possa parlare ai cittadini che possa dare un animo alla propria presenza sulla scena politica sia di rompere questo meccanismo far sì che il potere non mangi più i suoi escrementi e come si fa a rompere questo questo meccanismo in un modo molto semplice immettendo nel potere programmi e progetti politici nell'interesse dei cittadini e non soltanto nell'interesse del potere onorevole Civati lei ha voluto partecipare a questo incontro pubblico con Zagrebeschi perché è una persona che come ha scritto sul suo blog può portare un contributo in vista del congresso e immagino già da questo primo intervento ha messo molta carne al fuoco io uroboro segretario lo slogan efficace ci stiamo lavorando uno dei temi portati adesso è appunto questo clima di stallo e di pacificazione che fa sì che questo governo vada avanti giorno per giorno e lì instabile non si sa un giorno Berlusconi dice se vengo dichiarato incandidabile lo faccio cadere e la mattina dopo smentisce tutto ecco la pacificazione è un bene tu nel tuo libro che hai pubblicato di recente non mi adego parli tanto di conflitto inteso come dibattito incontro eccetera puoi spiegare un po' questa tua idea questa sua idea scusa no dammi del tu perché ci mancherebbe anche che ci dessimo fintamente del lei davanti a tu io intanto volevo ringraziare il partito democratico di torino lo vorrei fare perché i dissidenti nel pd sono trattati bene diciamoci la verità ci hanno dato il sabato sera siamo riusciti a coinvolgere gustavo è una bellissima serata siete in tanti ma il merito è anche di chi ci ospita e lo vorrei dire lo vorrei dire perché io vorrei fare un patto con voi da questa sera fino a natale non so quando ci faranno fare il congresso poi magari ne discutiamo però fino al congresso io vorrei che le polemiche le facessimo sulle cose serie se riusciamo che ci dividessimo sulle questioni di fondo e non sul gossip che rinnovassimo la stima verso i nostri avversari interni chiamiamoli così ma io ho stima ho la fortuna di conoscere sia Matteo Renzi che Gianni Cuperlo e di avere avuto il piacere di seguire anche Gianni Pitella quindi io penso che un congresso si faccia sulla qualità non parlando male o sperando che gli altri vadano a sbattere quindi questo è il messaggio buonista ma io ci credo perché se non iniziamo così facciamo una discussione tutta strampalata che ci allontana come diceva Gustavo dalle vere questioni politiche sulle quali io invece rivendico la possibilità di dire tutto quello che penso e quello in cui credo e auguro che lo stesso faccia il Partito Democratico perché continuando a dire cose in cui crediamo fino ad un certo punto non siamo più credibili e non è un gioco di parole non siamo più credibili partendo dagli ultimi episodi ma noi non possiamo avere rivendicato per anni l'uguaglianza di fronte alla legge che è la prima e la più importante dell'uguaglianza da cui tutte le altre discendono e aprire un dibattito sulla decadenza io per essere un po' decadente mi sono fatto crescere la barba e me la taglio il 9 settembre se il PD vota come deve votare ma perché altrimenti sarebbe irreparabile tutto questo e il caso e il caso no la barba marziana è il rischio dice Zagrebelsky perché potrebbero durare tanto le larghe intese ma ho un piano a cui arrivo fra un attimo l'altro esempio sul quale ci siamo soffermati tutti che ha provocato anche un dolore personale è stata la vicenda dell'Imu perché per una ragione politica che è precedente a tutte le questioni tattiche perché poi ci si rimane male non è che è strumentale dire così io ci sono rimasto male penso molti di voi perché noi abbiamo sempre detto che avremmo tassato il patrimonio per abbassare le tasse sul lavoro l'abbiamo sempre ripetuto avevamo detto questo in campagna elettorale e almeno su un punto ci dobbiamo intendere che le cose che diciamo in campagna elettorale alla luce di quella crisi della rappresentanza se non le possiamo fare tutte però non facciamo il contrario non so se mi spiego un pezzo perché c'è il PDL perché c'è Napolitano che la larga intese c'è anche scelta civica Monti è diventato di sinistra ci ha scavalcato negli ultimi giorni arrabbiatissimo però voglio dire va bene tutto ma io non posso fare il contrario di quello che promettevo in campagna elettorale non è possibile e la cosa bizzarra è che noi abbiamo fatto il contrario di quello che dicevamo nel pomeriggio del giorno stesso perché fino al pomeriggio io dicevo guardate probabilmente si troverà un compromesso toglieremo l'Imu sulla prima casa ma per una soglia come dire del 50 60 70 era diventato un po' triste il mercanteggiamento sulle percentuali però si capiva che c'era almeno una dignità rispetto alla quale corrispondere e invece la sera è volata via tutta l'Imu e poi gli altri ci godono non è che sono dei fini intellettuali portano a casa tutto il risultato e passano alla battaglia successiva che non guarda caso è di un segno ancora più radicale che è quello dello status di senatore del senatore appunto Berlusconi quindi io rivendico tutto questo non per vincere il congresso del PD perché non è guardate noi dobbiamo fare una prova con noi stessi e provare ad alzare un po' il tono della nostra discussione provare a guardare alle questioni che ci hanno portato qui senza leggere le agenzie del giorno prima le battute io per esempio sono coinvolto in un'eterna colluttazione con Stefano Esposito a cui mando un bacio non so come si fa no per finirla ma perché non va bene parliamo delle questioni di fondo allora ripartiamo lo ha raccontato bene Zagrebeschi e gli vado lo seguo come dire sulle questioni no di politici che abbiamo visto tutti perché tutta questa storia incomincia con una delusione tu la chiami depressione che però si è già manifestata nel voto e noi non ci abbiamo riflettuto abbastanza sul voto di febbraio perché noi non abbiamo vinto le elezioni potendo governare perché abbiamo perso un voto su tre immaginate uno, due, tre a favore di Beppe Grillo uno su tre dei democratici magari presenti qui stasera ha votato Beppe Grillo abbiamo fatto pari con le nostre feste le nostre amministrazioni le tradizioni culturali grandiose da cui proveniamo noi abbiamo pareggiato con un movimento un po' raccogliticio dal punto di vista ideologico io sono quello considerato più vicino al movimento 5 Stelle ma i limiti si vedono però abbiamo fatto lo stesso risultato e gli elettori hanno visto diminuire la loro partecipazione al voto come non era mai successo nella storia della Repubblica questi sono i dati fondamentali e non abbiamo speso un minuto per ragionare sulla potenza di quegli eventi non abbiamo speso un minuto per capire quali erano i motivi di questa lontananza ed è questa lontananza che noi dobbiamo sapere interpretare perché è il tema che ci frega tutte le volte una volta era la lontananza geografica e vinceva la Lega la lontananza del teatrino della politica e si affermò Berlusconi e noi ci siamo sempre di più chiusi nel palazzo siamo bravissime in larghe intese abbiamo un dottorato di ricerca abbiamo studiato la fecondazione Enrico Letta che è una persona che stimiamo tutti quanti però quest'estate al meeting di Rimini che è già un posto dove bisogna andarci poco o niente secondo me dice 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 oltre alla pacificazione a cui arrivo immediatamente dice bisogna fecondarci se uno dice d'estate magari ti viene più facile però la fecondazione col PDL no dai adesso cerchiamo di trovare un punto da cui ci fermiamo riflettiamo allora la pacificazione perché è insidiosa pensando a quel percorso che poi ci ha portato a non votare Rodotà e persone pericolose come Zagrebelsky come Presidente della Repubblica perché ce li presentava Grillo che è uno degli argomenti più stupidi del mondo perché a cominciare da Stefano Rodotà io una bella riunione del PD di 3 o 4 giorni l'avrei fatta sull'argomento invece di dire no non va bene è un narciso diciamo delle cose tremendi di Rodotà non si ritira vabbè fanina telefonata magari parlaci era tutta la rovescia però dicevo tutte queste i 101 su cui poi ci sarà la solita tradizionale domanda sui 101 chi sono i 101 ci arriviamo a fine serata però tutta questa storia in verità tutto questo percorso nasce proprio dal problema che noi non ci dobbiamo pacificare tra gruppi dirigenti tra politici tra persone che dovrebbero portare la rappresentanza perché è un controsenso lo ha spiegato benissimo Zagrebelsky se io porto se io mi pacifico con le ragioni del PDL mi annullo il compromesso sarà sempre a ribasso terrò fermo il paese questo è il problema e il titolo del manifesto dell'altro giorno era fantastico a commento e l'IMU il titolo era immobili perché di questo si tratta nella migliore delle ipotesi di stare fermi e di non riuscire ad aprire come dire nuove strategie per dare alle persone più benessere una salvezza che non deve riguardare Berlusconi o noi o la legislatura o il governo noi non dobbiamo salvare il governo dobbiamo salvare il paese e i cittadini che più rischiano e più soffrono che sono le due categorie a cui secondo me la sinistra deve guardare la pacificazione è un concetto pericolosissimo perché la pacificazione va trovata attraverso la registrazione ovvia che questo è un paese molto diseguale è un paese pieno di conservatorismi non solo ai livelli più alti non solo nello scenario internazionale ormai abbiamo tradotto è una matriosca di status quo abbiamo convenienze dappertutto abbiamo amici degli amici abbiamo una classe intera di lavoratori che sono quelli più giovani di me che assistono attoniti a un dibattito per cui si parla di diritti che arriveranno e non arrivano mai anche i precari sono diventati vecchi sono 16 anni che c'è il precariato in questo paese nelle varie forme e noi non abbiamo mai trovato un modo per rappresentare non per pacificare ma per avere un'interlocuzione una rappresentanza anche uno scontro con questa generazione di lavoratori ad esempio noi siamo un paese che vive ancora con sospetto le questioni dei diritti civili il dibattito sull'omofobia alla camera guardatelo perché c'erano degli ampi come dire panorami medievali che poteva sì c'erano degli interventi indimenticabili che fanno pensare però che siamo immaturi che ci spaventiamo per niente che ancora parliamo con prudenza degli omosessuali e lo facciamo anche noi a volte nel centro-sinistra e questo è scandaloso perché che ci siano i conservatori vabbè ma noi siamo un paese che vive con sospetto la discussione di temi diversi fuori dall'agenda quella che ci hanno imposto del pensiero a cui tutti dobbiamo corrispondere ma insomma l'ambiente non è un tema di nicchia questo è un argomento sul quale noi dovremmo dedicare tantissimo lavoro e spiegare che l'ambiente insieme alla cultura e alla conoscenza sono collegati al lavoro non c'è bisogno di tirar fuori un compagno che sa di ambiente no? che succede sempre così verso la fine l'uno e mezza alle due di notte c'è la riflessione sull'ambiente ma tu devi metterla all'inizio come i diritti quelli civili quelli materiali devi fare politica in quel senso e guardate ho l'impressione e finisco su questo punto che essere conflittuali sia sano perché questo finto unanimismo è la maschera di tutte le nostre nefandezze i 101 sono emersi nella notte perché eravamo tutti d'accordo su Prodi e paradossalmente c'è ancora qualcuno che avvicina a quelli che non hanno votato Prodi a quelli che non hanno votato Marini ma la storia è esattamente il contrario cioè di Marini abbiamo spiegato perché c'erano tante perplessità anche di spiegazioni di comprensibilità l'abbiamo fatto nel gruppo e invece l'ovazione ha salutato Prodi con i risultati che sappiamo e guardate che se l'unanimismo nostro il culto del parlarsi bene perché se no diventi antipatico Civati è divisivo che capite io sono alleato di Brunetta della Santa Anchea e il divisivo sono io è un po' strana come cosa nella vita anche Cicchitto dicono è una colomba che tu dici mazza se Cicchitto è una colomba gli altri devono essere turisti quindi se il quadro è questo qui non per fargli spiritosi ma per riflettere davvero dall'unanimismo usciamo con una discussione politica che coinvolga tutti quanti noi che coinvolga soprattutto voi ed è questo almeno il pezzo di rappresentanza di culto non delle personalità ma della politica che dobbiamo avere che siate voi i protagonisti di questo congresso che siate coinvolti quando ci sono le decisioni da prendere perché non succede mai a volte non succede nemmeno con i parlamentari perché c'è un impostato c'è il governo che se no se voi votate la mozione Giacchetti per tornare al Mattarello non potrebbe cadere il governo quindi ti fanno ritirare 100 firme che tu ci hai messo ti fanno contraddire la tua battaglia politica più importante quella fatta due anni fa con tanti di voi un milione e mezzo di firme raccolte perché se no perché la legge elettorale va fatta alla fine delle riforme costituzionali ma noi non abbiamo mai discusso di questa cosa con voi invece mi pare una delle questioni decisive e vi faccio un ultimo esempio ce ne sono mille in questa stagione che parlano di un disagio che è solo una piccola parte di quello che tratteggiava Zagrebelsky ma che è fondamentale che noi affrontiamo subito se noi abbiamo gli F35 in Parlamento c'è un fatto politico banale che noi avevamo promesso di prenderne di meno giusto? non si capiva quanti di meno ma meno e non possiamo prenderli gli stessi e non possiamo nemmeno pacificarci con Mauro che è il ministro cattolico strano lui è un cattolico strano perché dice che i cacciobombardieri sono strumenti di pace che è una bella forte come cattolicesimo però per arrivare a quello che a quello che vorrei che fosse però il cuore della questione che se arrivano gli F35 noi che siamo un grande partito che siamo un grande centro-sinistra in cui per me ci dovrebbe essere Sella ancora perché non sta nel cielo né in terra che noi non coinvolgiamo immediatamente sei un centro-sinistra ospitale ospitale di tutti i movimenti perché qui fai il governo delle larghe intese però se vai alla manifestazione di libertà e giustizia qualcuno te lo fa notare siamo al rovesciamento della realtà se interloquisci con Landini sei un pericoloso estremista e tu dici ma no no ma è così però è così davvero allora dicevo che un partito di questo tipo se arrivano gli F35 forse può anche pensare di raccontare cosa pensa della difesa di dove spendere i soldi da quel punto di vista se farlo a livello europeo se avere una strategia di quella di quelle proporzioni che non riguardi solo la nostra politica estera che abbia un'idea da raccontare sul Mediterraneo prima che ci sia richiesto di esprimerci sulla Siria che abbia l'ambizione di raccontare un mondo diverso è questo il punto mi dicono sempre finisco davvero come si fa a coinvolgere i giovani perché sapete nel PD io sono ancora considerato giovane perché nel PD con la riforma Fornero sei giovane fino a 67 no? cioè è così funziona in questi termini ma come si fa a coinvolgere i giovani se non si ritrova un senso una proporzione un linguaggio che sia più ambizioso da quel punto di vista dal punto di vista culturale del sovvertimento di quei poteri che ci stanno condizionando così fortemente del protagonismo delle persone e delle grandi popolazioni di questo mondo se non lo facciamo guardate c'è già un posto dove stare si chiama destra la destra è già abituata a tenere tutto così com'è oltretutto se si presenta e mi taccio davvero nelle forme della conservazione come non solo del serpente che si mangia la coda forse di un biscione a volte ma non solo in quelle forme perché la circolarità è anche nelle nostre discussioni e l'immagine tua è forte perché si giustifica tutto alla fine si giustifica il caso Alfano che uno dice ma se Alfano non fa più il ministro è più forte il governo secondo noi che siamo cattivi non siamo entusiasti del governo delle larghe intese però non va bene che noi rimaniamo appesi sempre a un ricatto perché non ragioniamo più perché tutto si tiene perché si parte da una decisione si finisce davvero al suo contrario e non c'è mai un momento per aprire un dibattito allora in questo senso che il PD deve essere cultore di questa dialettica e di questo anche conflitto tra di noi che sia sulle cose vere per il resto è tutta una finta che non è rispettosa dei rielettori che non è rispettosa dei vostri sentimenti delle passioni e soprattutto dei bisogni delle aspettative che ci sono cioè adesso è finito davvero per avere un mondo così difficile bisogna avere delle scelte fare delle scelte radicali impegnative per rispondere alle esigenze che ci sono e la politica dovrebbe essere una cosa che va come il pane non che è ridotta ai minimi termini che è ridotta a un piccolo circolo che discute e chiude in se stesso la riflessione e questo è il tentativo che dobbiamo fare se lo facciamo guardate ma non è che vinciamo le elezioni che sarebbe anche il caso perché nel PD c'è questa tendenza a pareggiare che quando vinciamo dice quello là potrebbe vincere non votiamolo parla con la gente è un populista no aspetta bisogna vincere le elezioni però bisogna fare partecipare del tempo in cui viviamo di quello che succede a livello mondiale ma anche a livello europeo a quello che succede ai nostri ragazzi ai giovani veri io penso che questo sia il motivo per cui siamo qua questa sera nelle altre sere delle feste e del nostro impegno altre cose non ce ne sono più non valgono la pena e stiamo attenti a non cascare nella nostra retorica che è questa cosa strana che ci sta un po' negando che sta negando noi stessi qui procediamo un po' prendendo la coda del serpente poi tu produci gli argomenti perché so che ne hai uno esplosivo per la fine ma dunque riprendo le ultime affermazioni di di Pipo Civati che dice che non dobbiamo usare parole finte hai usato questo additivo finto dunque qualche giorno fa ho ricevuto un documento di pre-programma diciamo così congressuale di un tuo concorrente non faccio il nome è un documento già di 41 pagine di 41 pagine e mi si chiede di esprimere molto cortese io sono stato onoratissimo di essere stato coinvolto in questo esprimere le mie opinioni io ho risposto caro puntini puntini su 41 pagine non mi puoi chiedere una mia opinione dovrei scrivere alcuni e poi soprattutto non sono un tuttologo quindi se hai delle domande specifiche benissimo io poi però ho aggiunto due cose che dico qui anche a Pipo Civati primo dicevo nell'intervento precedente la politica è la dimensione della scelta se non c'è scelta non c'è politica se non c'è politica non lamentiamoci del disincanto delle nuove generazioni che si chiedono perché ci dobbiamo impegnare ci dobbiamo far coinvolgere per sostenere cose che non hanno nessuna possibilità di esprimersi in politica dunque se la politica è scelta nei programmi politici tutto ciò che è ovvio non dovrebbe essere detto scusate visto che questo riferimento ha suscitato qualche interesse ricordo che di essere stato invitato alla discussione del primo documento programmatico del partito democratico in che anni eravamo dunque voi ricordate che nel 2000 nel 1994 qualcuno era virgolette sceso in campo dicendo l'Italia è il paese che amo allora applicando quella regola che vi ho appena indicato si sarebbe mai potuto immaginare che un leader politico scendesse in campo e dicesse l'Italia è il paese che odio no è ovvio che è così non merita di essere detto il PD pensando che fosse una formula postmoderna particolarmente suggestiva quella di sto parlando un po' male del PD ma insomma si può quel documento iniziava così noi e vabbè noi non siamo gli altri non siamo gli altri virgola i democratici virgola amiamo l'Italia allora applicando la regola che ciò che non può che essere così non merita di essere detto chiediamoci si sarebbe potuto iniziare quel documento dicendo noi gli antidemocratici odiamo l'Italia no allora cerchiamo di parlare poco e soprattutto dire cose che ci impegnano in una scelta perché in questi in questi documenti tra cui anche quest'ultimo a noi non importa nulla che sia scritto che bisogna riformare la scuola per promuovere il merito ma perché qualcuno dice che bisogna promuovere il demerito non ci importa questo vogliamo sapere quante risorse da altre partite di spesa vengono dirattate alla scuola e vogliamo sapere se la scuola di cui il PD si preoccupa particolarmente è la scuola pubblica o la scuola privata questo vogliamo sapere e la stessa cosa è per la pace chi scriverebbe che è per la guerra tutti siamo per la pace ma quali sono le politiche che vogliamo fare per la pace e lì c'è un grande campo di scelte la cooperazione internazionale per esempio piuttosto che gli F35 su cui arrivo subito gli F35 ecco io sarei contento di trovare un leader politico che non dicesse più le cose che ci fanno piacere perché sono ovvie ma che ci dicesse delle cose che possono fare dispiacere a qualcuno perché rappresentano una scelta seconda cosa la formazione di una leadership in un partito di una classe dirigente adesso ci sono qui la parola dirigente tutti considerano un dirigente spero di no perché quando qualcuno dice io sono un dirigente ma di che cosa dirigi allora sarebbe bene che dicesse io sono occupo una posizione di responsabilità in questo partito e in questa posizione di responsabilità sento il dovere di ascoltare il più possibile le esigenze di quella parte della popolazione che io voglio rappresentare il concetto di dirigente viene da un'altra epoca perché stavo dicendo ecco come si forma una leadership in un partito guardate una leadership che possa parlare ai cittadini che possa parlare agli elettori che possa riscaldare animi che si sono raffreddati nel frattempo non la si riscalda con i documenti neanche con quei documenti che dicevo prima quelli che scegliono la si riscalda con dei comportamenti comportamenti con comportamenti che si tengono quotidianamente prima del congresso dei congressi indipendentemente dai congressi poi nel congresso ci sarà confronto tra varie posizioni che non sono costruite sui pezzi di carta ma sono costruite su esperienze su impegni su spendersi su combattere su anche essere sconfitti ma su cose che si fanno esempio F35 adesso io non siamo favorevoli agli F35 il problema è più complicato non si può mettere solo così siamo pro contro è un pochino più complicato ma quando è arrivato un diktat alle camere che diceva voi non potete discutere degli F35 che è una cosa che dal punto di vista costituzionale mi permette di dire Andrea Giorgi se è qui non so cosa ne pensa penso che non sia d'accordo con me perché non ha alzato il dito a dire che non era d'accordo siamo nel campo della politica estera dall'ottocento in poi la democrazia ha fatto dei passi importanti e difficili per trasportare i problemi della politica estera che una volta erano riservati agli alti comandi alla corte del re era politica riservata diciamo si sono fatti dei passi per democratizzare la politica estera ecco allora un leader politico che si propone con una propria personalità io mi sarei aspettato che in quell'occasione sollevasse il problema e dicessi il Parlamento in quel momento su questa questione importante di F35 ma in genere la politica estera non può essere espropriato altri esempi l'Europa altro tema che diventerà d'attualità perché l'anno 21 c'è la c'è l'elezione del Parlamento europeo l'Europa è un tema riconosciamolo che non appassiona i giovani categoria dello spirito non si infiammano per l'Europa così come la conosciamo ma l'Europa come era stata pensata negli anni 50 quella sì che era un progetto entusiasmante ed era in quel contesto lì che la nostra Costituzione articolo 11 dice che l'Italia è disponibile a rinunciare a trasferire quote di sovranità interna a organizzazioni sovranazionali ma non pur che sia a organizzazioni internazionali che operino per il progresso e la pace tra le nazioni la pace e il progresso e la giustizia tra le nazioni ecco ora ditemi voi rispetto all'Europa la politica italiana è totalmente appiattita questi valori che sono quelli in nome dei quali noi siamo contenti di rinunciare a una parte della nostra sovranità no? la pace il progresso la giustizia tra le nazioni ditemi voi se l'Europa in questo tempo è a posto ha la coscienza a posto guardando che cosa succede in Grecia quali sono le politiche le politiche monetarie del di certi paesi importanti ecco lì non è il caso di mobilitare le energie in Parlamento c'è qualche leader politico che ha sollevato seriamente questo problema del come stare in Europa portando animo spirito avrei tanti tanti esempi da fare i diritti civili ma l'hai citati anche tu ma i diritti civili quando si affacciano c'è qualcuno che dice non sono non sono la priorità no? c'è ben altro c'è ben altro andatelo a raccontare a chi della mancanza della tutela dei diritti civili porta le conseguenze quotidiane nella nella propria esistenza andatelo a raccontare che non sono questioni prioritarie e poi non è mica detto che se si fa una cosa non se ne può fare un'altra ecco allora anche lì una battaglia visibile anche a rischio di scontentare gli equilibri le intese di diventare divisivi mi fa piacere il divisivo in democrazia è un valore non fino al punto di portare alla catastrofe ma la democrazia è per l'appunto il confronto di progetti diversi gli uni dagli altri ci si deve dividere e se si viene sconfitti è molto meglio che non nemmeno aver sollevato il problema perché a quel punto se tu non sollevi il problema nessuno ti andrà più a votare perché ci sarà una carenza di rappresentanza la legge elettorale la legge elettorale ecco la legge questo è mi fa cioè spero di poter dire qualcosa sulla legge elettorale ma ho già parlato troppo no 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 dunque allora qui il mio cattivo umore raggiunge raggiunge il massimo quanti anni sono che si dice che si fa la legge elettorale dopo il forcellum praticamente subito quando la corte costituzionale ha sciaguratamente mi permetto di dire bocciato il referendum perché se fossero ne fosse stato ammesso almeno uno avremmo con ogni probabilità ha avuto il ritorno al mattarellum che non è l'optimum ma è certo meglio di quello che abbiamo è stato bocciato perché anche lì diciamo la coincidenza di situazioni oggettive perché dare via a quel referendum si diceva avrebbe avuto degli effetti destabilizzanti del governo allora Monti che quindi non se ne è fatto nulla quando è uscita la sentenza della corte costituzionale tutte le forze politiche in parlamento il movimento 5 stelle non c'era ancora ma tutte le forze politiche in parlamento comprese comprese la lega il cui esponente Calderoli era l'autore del porcello sono usciti con coro unanime a dire legge elettorale subito subito questa parola subito è diventata una parola scusami ma impronunciabile oggi in parlamento quando si è posto dopo gli scandali ricordate alla regione Lazio e poi in tutte le regioni spese folli per cose più folli ancora con le risorse pubbliche tutti hanno detto subito la legge sul finanziamento pubblico dei partiti un altro subito allora per favore non diciamolo più subito subito vuol dire mai mai più ecco per la legge elettorale è così voi credete che io credo che ci si debba attrezzare ragionevolmente per andare a votare quando accadrà con questa legge insomma l'esperienza che abbiamo alle spalle dimostra che le leggi elettorali non si cambiano e soprattutto l'altro giorno il presidente del consiglio a Genova ha detto una cosa la cui contraddizione è patente a mio modo di vedere ha detto questo governo arriverà presumibilmente al 2015 è già tanto è già tanto però da ottobre ci impegniamo a cambiare la legge elettorale dove sta la contraddizione se a ottobre si cambia la legge elettorale si va a votare a novembre perché quando si fa una legge elettorale nuova il parlamento in carica non è più legittimato allora tu non puoi al tempo stesso volere una durata indeterminata del governo e voler cambiare la legge elettorale immediatamente quello che secondo me significa l'affermazione del presidente del consiglio per cui a ottobre si lavorerà sulla legge elettorale equivale al legge elettorale nuova subito cioè mai anche perché mantenendo questa legge elettorale siamo sicuri che non ci sarà lo scioglimento anticipato delle camere quindi questa legge elettorale è nell'interesse delle gerarchie dei partiti questa legge elettorale deve essere mantenuta perché così si sa che non si andrà a votare però si dice ci stiamo lavorando ma non ci illudiamo allora un partito democratico come è e deve essere il partito democratico si deve attrezzare fin da ora ad affrontare le elezioni quando queste saranno avendo aperto le sue finestre avendo fatto un'operazione di diciamo di come dire di seduzione di quella parte della nostra popolazione che noi non ci rendiamo conto di che cosa sta accadendo nel nostro paese se leggiamo solo i giornali e guardiamo la televisione abbiamo una visione della vita pubblica sociale del nostro paese grossa così ma quanti sono i movimenti l'impegno dei cittadini in attività di valore sociale che aspettano solo di essere raccolte di essere convogliate ecco io direi questo volendo essere realisti andremo a votare con la stessa legge elettorale orrenda tutti dicono che è incostituzionale l'ho detto anche il presidente della repubblica oltre che la corte costituzionale ma pur essendo orrenda non è escluso che si possa agire agire operare per farla funzionare nel migliore dei modi possibili e qui viene l'ultima considerazione se volete un po' di teoria politica che si fa riferimento alle riforme costituzionali delle quali avrò occasione di parlare qui probabilmente con Marina Sereni 5 faccio un po' di pubblicità 5 di settembre le istituzioni domanda domanda che vi faccio sono più importanti le istituzioni cioè le forme le regole o sono più importanti i comportamenti di coloro che operano nelle istituzioni la risposta classica che viene da Platone e da Aristotele dice che le istituzioni sono importanti possono agevolare possono facilitare ma più importanti sono i comportamenti per cui una cattiva costituzione torniamo a noi una cattiva legge elettorale può funzionare non malaccio se si immettono delle energie buone viceversa buonissime istituzioni sulla carta possono essere corrotte se chi ci lavora dentro è corrotto e diciamo classicamente si fanno queste distinzioni la monarchia la monarchia è un regime ottimo il monarca è colui che si occupa del bene del popolo ma può diventare un tiranno ecco la forma è sempre la stessa ma chi ci lavora dentro può farla funzionare bene o male l'aristocrazia è un bel regime se al governo ci sono i migliori gli aristoi ma se i migliori diventano semplicemente una cricca di potere l'aristocrazia diventa una oligarchia oggi in Italia si sta diffondendo questa parola nel dibattito pubblico in riferimento alla situazione nostra la oligarchia non sviluppo il tema e la democrazia idem la democrazia può essere un regime ottimo se chi ci lavora dentro riesce a far emergere il meglio di una società o può diventare il regime del pubblico televisivo del pubblico impolitico degli egoismi particolari può diventare un regime badate bene odioso non c'è nessuna garanzia che la democrazia alla fine sia amata da tutti possiamo arrivare al punto in cui la maggioranza dei nostri concittadini di fronte allo spettacolo della democrazia possa dire come è accaduto nel secolo scorso tutto è meglio di questa democrazia tornando sul tema del partito democratico e dell'apertura ai movimenti in che maniera il partito democratico può e deve aprirsi ai movimenti evitando magari anche quelle forme di attacchi che avete subito tu e la pupato che guardate ha la gente contraria agli F35 e venite accusati per questo di populismo e in che maniera potete aprirvi e evitare così di passare per populisti e come deve reagire l'apparato anche la dirigenza ma io sono una precisazione sono un po' più ottimista di te io spero che questo Parlamento la legge elettorale la cambi lo dico non in contrasto ovviamente con le tue riflessioni che sono più che sensate e purtroppo nel loro pessimismo molto ragionevoli ma perché se noi non cambiamo la legge elettorale aumentiamo i motivi di disperazione di depressione che tu descrivevi all'inizio io non so se abbiamo ancora molto margine per mantenere un filo di credibilità con le persone quindi è caso che su questo ci impegniamo tutti è vero che la poesia passa perché le persone che sono al lavoro sulla riforma della legge elettorale sono le stesse che lo erano quantomeno già nello scorso anno quando c'era Presidente del Consiglio Monti Quagliariello che è uno dei miei preferiti era già allora al lavoro e allora la soluzione era un modello ungherese che sembra una battuta da festa ma è vero cioè noi avevamo il modello ungherese come faro di quella discussione quindi è vero che ci sono motivi per pensare che la discussione non si risolva però la politica lì può fare capolino finalmente e quindi a Beppe Grillo che da ultimo si è messo a fare un ragionamento molto meno virtuoso e significativo di quello di Gustavo dicendo la legge non la cambiamo tanto la prossima volta vinciamo noi e la cambiamo noi siccome già questo modo di ragionare è un filo discutibile dal punto di vista della pratica democratica perché la legge elettorale è una di quelle cose sulle quali le intese più larghe sono meglio è credo per il rispetto delle posizioni di tutti il punto vero che io adesso ai parlamentari del Movimento 5 Stelle questa domanda la farò direttamente poi mi accusano di parlarci insieme perché appunto non è strano avere conversazioni con la Biancofiore che è una che sapete con me ha avuto dei momenti più automatici però se parli con uno del Movimento 5 Stelle i tuoi ti guardano male e Grillo dice che sei un cane da riporto io avevo capito che nel Parlamento fosse l'occasione straordinaria per misurarci non solo con i colleghi di partito ma anche per i rappresentanti degli altri gruppi per capire come mai ci sono 150 ragazzi in Parlamento per contribuire magari a capire di più io e anche loro forse che a volte sono un po' ingenui e hanno questa idea curiosa per cui bisogna attaccare tutti che è l'unico modo per conservarli io lo dico sempre Casaleggio deve essere uno della famiglia deve essere Johnny Letta uno dei parenti è un amico delle larghe intese Casaleggio perché continuo a dire non parlate con nessuno ma vorrei no è così e ci tengono su di fatto continuando a urlare di fronte a qualsiasi proposta sull'omofobia cerchiamo di migliorare la legge ci attaccano perché siamo dei venduti aiutateci a modificare la legge se siamo d'accordo poi ci avete ragione su mille altre cose forse ma su questa non dovete attaccare chi è più vicino a voi come hanno fatto puntualmente anche sui cacciavombardieri sul sistema elettorale pensate che il Movimento 5 Stelle la mozione nostra l'ha votata solo dopo che noi avevamo deciso di ritirarla io erano tre giorni che nella mia attività di cane da riporto avevo segnalato che c'era la mozione Giacchetti e che sarebbe stato gradevole avere un'opinione del gruppo del Movimento 5 Stelle che è peraltro uno dei gruppi in assoluto più numerosi dopo il nostro e il secondo diciamo in quel Parlamento sul punto per capire se non potessimo anche attraverso il contributo delle intellettualità dei giornali come si suol dire forse avremmo potuto in quel caso aprire un dibattito un po' più ampio e un po' più alto e magari anche portare un voto diverso in Parlamento invece prevale la tattica e io spero che questa sia una cosa che nei prossimi mesi cambi perché non ricordo più chi lo diceva ma qui siamo di fronte al rischio che ci sia la disaffezione anche verso quelli che hanno coltivato la disaffezione che hanno preso i voti in ragione della disaffezione verso gli altri dopo semplicemente le persone non vanno più a votare che è il delitto perfetto a quel punto di una democrazia che non funziona io adesso mi ricordo più la tua domanda me la rifai perché mi sono perso il sistema il professor Zagreb ha detto che in vista di possibili elezioni bisogna aprire finestre e fare entrare ah sì sì no certo nonostante a prescindere dalle elezioni il partito democratico dovrà aprirsi in qualche maniera di interlupire il primo il primo che mi viene in mente così la ricordo e esprimo solidarietà e vicinanza che questa sera è quello di Cecil Chiang perché noi siamo un paese di stronzi dove le persone si permettono di dire cose inimmaginabili hanno dotato uomini primitivi di facebook e scrivono cose vergognose la mattina e la sera tra l'altro forse incontrerò Tosi così glielo dico dal vivo fra qualche giorno perché lui fa i distinguo lì non c'è da fare i distinguo c'è da cambiare e la Lega sono vent'anni che fa quel razzismo soft che ci ha rovinato culturalmente però dicevo Cecil per sostenerla noi dobbiamo riempire lo spazio che lei copre e rappresenta anche politicamente non solo con le buone parole dobbiamo portare non solo in questo Parlamento ma nelle sfide future questo tema con lo stesso coraggio che lei ci mette perché altrimenti rischiamo no guardi che però stiamo parlando non facciamo confusione stiamo parlando di cose diverse signore poi se vuole vediamo il microfono e ci spiega però stiamo parlando di cose diverse no guardi io sto per me una signora stiamo stiamo dicendo cose diverse forse un po' sì allora riprendiamo il punto l'esempio però è quello di non avere di senso dai però chiudiamolo qui perché facciamo degli esempi dello stesso segno però su questo non possiamo avere solo dei simboli no per il dibattito pubblico per ingaggiare delle polemiche dobbiamo anche sostenerli e riempirli politicamente dal punto di vista del diritto del riconoscimento della cittadinanza e finalmente concependo la cittadinanza non come una concessione facciamo uno sforzo tiriamo fuori un po' di coraggio di dignità costituzionale non è che riconoscere le unioni civili o quelli che io chiamo matrimoni gay perché non ne posso più di sentire civil partnership no qualcuno li propone alla tedesca che devono essere dei matrimoni strani chiamiamoli così non è che è una concessione nostra non è una concessione degli eterosessuali non è una concessione degli italiani di Monza località vicino ad Arcore per cui portatemi rispetto no gli italiani fino al midollo che diamo apriamo agli altri deve essere riconoscimento di uno status e anche di una posizione nella società e su questo noi siamo stati per troppi anni timidi io conosco bene Ilda Curti che è un vostro assessore fantastico lei è bravissima ma troppo spesso la nostra classe dirigente non ha fatto abbastanza su questo si è spaventata e gli esempi sono in questi casi spesso c'è ben altro da fare perché si guarda all'emergenza c'è ben altro da fare però quando c'è da fare lo spottone estivo si fa il decreto legge sul femminicidio allora per rispondere alla tua domanda io la prossima volta che facciamo un decreto legge sul femminicidio magari facciamo partire le cose al Parlamento ogni tanto che così ci danno da fare anche a noi che sarebbe utile magari prima le associazioni che si occupano di questi temi le università le persone che scrivono e riflettono le ascoltiamo prima di fare in decreto perché questa volta e lo dico questo non c'entra con la mia polemica o il mio dissenso rispetto alle larghe intese perché non possiamo fare una cosa giusta che però non è fatta abbastanza bene come dovremmo farla e leggere per tutta estate le critiche di tutti quelli che ne sanno qualcosa non è accettabile per una grande forza politica che esprime il Premier fare delle distinzioni in quel testo che sono molto scivolose tra la violenza perpetrata nei confronti delle donne incinte o quelle che non lo sono sono cose che non stanno in cielo né in terra stiamo attenti allora se abbiamo la capacità di rappresentare dobbiamo avere anche l'ospitalità che è un concetto antichissimo che viene dalla nostra storia più profonda di essere davvero un luogo dell'incontro e del dibattito per produrre cose nuove e migliori di quelle che conosciamo già questa è l'apertura che chiedo io un dibattito che sia razionale perché io non lo so ma noi abbiamo il dovere di organizzare un dibattito per governare non per farlo e basta anch'io voglio le soluzioni anch'io voglio la concretezza però inizio a chiedermi ed è questa la domanda che secondo me al congresso ci dobbiamo fare se è più concreto chi dice cambiamo qualcosina di quello che già c'è o è più concreto chi dice proviamo a fare questa cosa in modo diverso ragioniamoci insieme ma guardiamo anche all'idea al modello di sviluppo a un dibattito che abbiamo lasciato morire in questo paese se uno ne parla già vi dici giornalista toglie il microfono è così avete mai visto un ballarò sulle questioni dell'ambiente dei rifiuti come tema di strategia delle infrastrutture non per rimproverarci il ponte sullo stretto no ma per pensare a una mobilità diversa avete mai visto una trasmissione in prima serata io no non capita mai è meglio la polemica del giorno la stessa parola austerità perché come sapete c'è stata una grande riscoperta di More Berlinguer che secondo me quelli che li citano per spiegarle larghe intese si devono un po' pulire la bocca se posso dare un consiglio perché è un'altra scala però anche di Berlinguer si è presa una parola che non aveva un senso tattico anzi dal punto di vista tattico fu sconfitta ma ce l'aveva dal punto di vista politico e della grande strategia che era quello dell'austerità tutti a parlare di austerità ma l'austerità che vediamo ora è un'austerità che anche nel caso dell'Imo alla fine non fa che come dire salutare le disuguaglianze che ci sono è la miseria per i poveri che devono sostenere magari i guai che il serpente di qui sopra aveva provocato l'austerità di Berlinguer era qualcosa di più era un ripensamento era un rovesciamento del punto di vista sulle relazioni industriali sul modello di sviluppo sulle cose di cui parliamo se no quando c'è Marchionne e non abbiamo gli strumenti il PD si divide in 500 interviste ci sono i tifosi di Marchionne anche che uno dice ma lì è la Fiat noi siamo un partito politico anche in questo nella difesa di una nostra constituency di una nostra ragione d'essere di una nostra vocazione noi dobbiamo essere molto più duri se facciamo così secondo me quel mondo che gira intorno a noi e che è sempre più lontano torna a partecipare anche rispetto alla militanza noi non possiamo pensare che la tessera serva solo per distinguere gli iscritti dagli elettori perché questo è il dibattito il PD facciamo votare solo gli iscritti o gli elettori ma è un dibattito insensato perché uno si iscrive al PD perché forse gli dai degli strumenti per partecipare e per decidere questo è il punto quando io proposi i referendum interni che erano previsti allo statuto del partito democratico mi guardarono tutti come un marziano ma ci sono le primarie noi scegliamo le persone il leader ho capito ma sto leader poi cosa dice e poi su alcuni temi non possiamo discutere insieme abbiamo visto che ci possono essere posizioni molto lontane ma non possiamo affrontare insieme anche per saperne di più per avere le informazioni per decidere insieme sulla base non di un richiamo della corrente sai no ti capita a me è capitato di essere d'accordo con Fioroni sui cacciavombardieri e tutti si sono spaventati anche voi vedo ma non arrivo subito al punto perché hanno detto è una strategia congressuale di civati un'intesa con Fioroni vi rassicuro Fioroni non mi vota al congresso il punto che se stai in un grande partito e non ti basi solo sulla appartenenza della sotto no gruppo della sottocorrente scopri che alcuni punti di vista si possono trovare d'accordo perché la tradizione del pacifismo del cattolicesimo democratico si incontrava con cose che dicevo io provenendo da un'altra tradizione io poi ho anche inaugurato lo slogan formidabile di mettete Fioroni nei vostri cannoni che useremo in campagna elettorale ma l'obiettivo è spiegare con forza che io posso io sulla questione costituzionale mi sento vicino alle cose che ha detto Rosi Bindi per esempio non per questo devo essere nella corrente di Rosi Bindi o viceversa ma perché ragioniamo siamo diventati scemi pensiamo che il mondo sia riducibile al PD il mondo è molto più grande il PD è una piccola minoranza gli iscritti i dirigenti del PD sono polvere di stelle quando ci sono le stelle non sono cinque perché sennò è un altro tipo di polvo la verità è che il mondo ha delle questioni da cui noi dovremmo partire quando io chiedo di discutere di fare anche un dibattito come si diceva una volta di ascoltare le domande delle persone lo chiedo per questo motivo perché vorrei che partissimo dalle esigenze non dalle teorie nostre che sono un po' ombelicali e vi faccio l'ultimo esempio per spiegare un concetto che per me è fondamentale perché ci siamo cascati per troppi anni pensando che la modernità stesse sempre a destra anche nella stampa vicina al centro-sinistra se uno è un po' di destra gli piace o non sembra è riformista uno dice ho capito però io non mi sento tanto no no ma tu devi seguire quello più a destra fin dai tempi di berlinguer questa cosa succediva io andavo all'elementari ma avevo già capito come funzionava sto trucco e la modernità a volte sta in posti dove non ce l'aspettavamo perché questa riflessione sull'acqua pubblica che si è trasferita nel voto di 27 milioni di italiani che sono la somma di tutti i tre principali partiti che non ci arrivano neanche a quella cifra lì quella battaglia non era una battaglia solo sulla come dire il capitale da reinvestire la percentuale di remunerazione no era una battaglia sulla democrazia sulla sovranità dei cittadini era trasversalissima partecipavano tutti e invece all'inizio ci fu presentata come una cosa di nicchia e il PD a livello locale la fece quella battaglia a livello nazionale ci arrivamo gli ultimi 15 giorni è incredibile perché cosa ha sbagliato lì in quel caso Bersani ma bisognava ospitare il PD doveva aprire le sue sedi e farlo insieme ai comitati quel dibattito e spiegare se Camparino non era che uno di quelli che citavo prima cioè un po' a destra piace no? eh no è così allora allora se anche un po' se c'è una posizione di Camparino discutiamola insieme il PD serve a fare e arrivare alla fine magari non tre settimane prima delle elezioni o dei referendum a decidere però perché lì sappiamo si sente il rumore il suono e anche un po' l'odore di tattica di convenienza perché allora si vissero le elezioni amministrative date per perse Milano e Napoli e allora dopo sembrava che potessimo votare anche che avremmo potuto votare anche per il referendum però la politica è rischiare un po' di più se possiamo dircela è provare a coinvolgere le persone fin dall'inizio e farlo sulla base di un dettato che è il nostro dell'esperienza che noi abbiamo ma è sorprendente ed è un esempio per me efficacissimo ma perché parliamo dell'inceneritore di Parma che peraltro questi ragazzi non è che hanno spento perché poi alla fine la demagogia non è che ti aiuta sempre a volte fa fumo anche la demagogia però abbiamo spento noi quello di Reggio Emilia perché non riusciamo a orientare i satelliti tutti concentrati su Parma ma Reggio Emilia c'è un assessore provinciale che ha dato l'avvio a un percorso diverso dall'inceneritore ha spento l'inceneritore fa la raccolta differenziata di sistema arriva a percentuali inusitate fa l'acqua pubblica perché si sta cercando di ricomprarsi come dire una società gestita in modo industriale efficientissimo la quota parte che adesso in un grande gruppo industriale come capita a tante città come capita anche a Torino ma perché lo facciamo noi del PD non è PD anche quello non c'è un posto dove confrontare queste diverse letture io immagino un parito così posso dirlo ci divertiremo anche un po' di più che a discutere di chi vince il congresso allora mi schiero con Pitella che è uno che vince va bene però non è quello il punto cosa dice Pitella poi me lo spieghi è meglio di me io alla fine tolgo il cappello e siamo tutti dietro di lui però parliamo delle cose da fare perché parliamo delle grandi idee che ci motivano altrimenti stiamo a casa parliamo delle cose da fare in vista del congresso hai delle politiche di lungo respiro hai già delle idee dei progetti per il PD è quello che vuoi fare perché questo che immagino la gente qui presente voglia ascoltare da te oggi insomma io un po' di cose stasera le ho dette sono molto impegnative in realtà le ho dette velocemente ma è un lavoro collettivo che dobbiamo fare tutti ed è un lavoro che facciamo partendo dalle cose intelligenti che sono state scritte dette quest'estate per esempio da Fabrizio Barca che è una persona con la quale noi discutiamo insomma chi lavora con me ha avuto modo di confrontarsi più e più volte soprattutto sull'idea di un partito che si mobilita esattamente come cercavo di raccontare prima su sfide ideali su battaglie di governo un partito a rete in cui ci si confronta al di là delle gerarchie perché abbiamo bisogno di confrontarci un partito che sia che tenga un livello di coerenza minimo rispetto a che cosa è a che cosa crede a quello che fa perché di questo guardate si tratta alla fine e il lungo respiro si costruisce fin dalle prossime settimane se il PD scivola sulla questione della decadenza ci vogliono anni a recuperarla quella roba lì io glielo dico adesso poi dopo non ci vengano a dire come i 101 sono quelle cose paragonabili ieri sera hai detto una cosa ancora più forte se il PD scivola sulla decadenza ci vogliono 300 anni come perché decada nel senso dell'esplosione nucleare esatto lo stesso è sulla legge elettorale e sugli impegni io penso lo dico non ho niente contro chi è al governo in questo momento però non si può dire che andiamo avanti due anni per me non è possibile lo dico sinceramente non è serio anche questo richiamo al semestre europeo come se fosse il Ramadan nel semestre europeo non si può pensare che non si può preparare prima anche attraverso una campagna elettorale sperando di vincerla uno fa lavorare Letta che è bravissimo in questo campo e nel frattempo prefigura anche una posizione che tra l'altro poco prima del semestre europeo vedrà anche il momento in cui voteremo per le elezioni europee cosa andiamo a dire le elezioni europee perché sapete lì hanno anche una scala di credibilità un po' diversa alla nostra per esempio per loro è un po' strano che noi siamo al governo con Berlusconi per gli stranieri non so se leggete un'Italia no per dire che se tu fai la battaglia in Europa sui paradisi fiscali e l'evasione fiscale e stai al governo con quelli che hanno votato lo scudo politicamente dal punto di stato giudiziario sono condannati per frode la pedagogia a livello europeo ti viene male fai fatica a spiegarti è così è drammaticamente così allora in Europa noi quell'Europa da riportare a casa in qualche modo nel senso di restituirle del valore come ce l'hanno le iniziative in comune in una grande città o in Parlamento perché la stessa cosa dovrebbe essere familiare l'Europa però dovremmo incominciare anche a sentirci più europei noi sulle partite che abbiamo prima citato perché su tutti gli argomenti che stasera abbiamo affrontato l'Italia non è esattamente all'arrembaggio allora di questi temi io penso che possiamo discuterne dando una via d'uscita a questa situazione che è una situazione innaturale che è nata con i 101 che è nata sulla sconfitta elettorale delle larghe intese perché gli italiani hanno votato contro le larghe intese e se ne sono ritrovati e questo è un valore per me politicamente che se c'è bisogno di recuperare su Grillo si incominciano a fare delle cose che consentano il recupero non il loro contrario perché se no la prossima volta magari non c'è Grillo magari non ci sono tre partiti al 30% ce ne sono quattro al 25 cinque al 20 non è una battuta perché è quello che può succedere in un sistema così rarefatto e magari con meno persone ancora che vanno al seggio allora io dico parliamoci chiaro questa è una mia opinione tra l'altro per cui io vorrei il congresso che è stato rinviato non a caso perché non è vero che non è stato ancora rinviato è stato già rinviato il congresso poi siamo tutti amici ci vogliamo bene però io lo dico tutte le sere perché il congresso si poteva fare e noi stasera lo chiudevamo con Zagrebelsky chiudevamo il congresso del PD io vincevo e dicevo vabbè Renzi è bravo lavoreremo insieme o viceversa però avremmo potuto finirlo già perché non è che ce l'ha ordinato il dottore invece questo mi fa impressione e anche questo ci allontana e allunga il periodo pensando i pensieri lunghi in modo diverso che un mese ci vuole per fare la segreteria ed Epifani che è una persona volenterosa fa una segreteria con 14 correnti una classifica wikipedia ha trovato anche un fiorognano giovane di Salerno amico mio che era difficile perché i fiorognani tendono a essere di una certa età gli ha riuscito a mettere il 14esimo poi dice dopo il mese la segreteria si è riposato e ha detto facciamo un mese per le regole ma non le cambi le regole in questa situazione siete voi a decidere ma teniamolo le larghe l'elettorato e non qualcuno si cambierà a fare il premier e qualcuno a fare più il segretario giusto sceglierete voi il tipo di persona di cui avete bisogno di cui abbiamo bisogno tutti quanti e invece a fare le regole e c'è tutto un gruppo scusami e c'è tutto un pezzettino del gruppo parlamentare che gli vedi discutere dicono se facciamo la regola che se si chiama Matteo non può partecipare buona questa però un po' forte no allora proviamo col cognome e dibattito è così ma chi se ne frega oh cioè io poi che non sono un partecipo alle opposte tifoserie mi domando ma di cosa stiamo parlando e allunghiamo perché poi c'è la settimana difficile perché c'è vi ricordate il momento della sospensione dei lavori parlamentari che ha fatto arrabbiare molti che abbiamo cercato di limitare a un'ora perché volevano tre giorni quella cosa lì ci ha bloccato per una settimana di fatto politicamente a luglio intendo dire per il PD perché Epifani ha chiuso rinviò la discussione sulle regole rischiamo di non arrivare più lì allora c'è l'assemblea nazionale il 21 di settembre facciamo questo congresso partiamo contiamoci come si fa in democrazia contiamo le ragioni di ciascuno e se ci sono temi sui quali siamo già d'accordo ma prendiamoli subito e usiamoli ho sentito che Renzi adesso ha mollato i chino e preferisce il contratto unico di Boeri siccome io sono d'accordo con Tito Boeri da quando Boeri era piccolo no facciamoli insieme non c'è bisogno di dividerci non è che uno è più amico di Boeri dell'altro va bene così se Cuperlo è d'accordo è fatta mi spiego cioè utilizziamo questo congresso anche per spenderci immediatamente vi faccio l'ultimo esempio questo partito non fa più un volantino dal febbraio del 2013 non c'è più un manifesto del PD prima ne facevamo strani 6 per 3 un po' grigi per mettere alla prova all'elettorato e vedere se ci votano lo stesso però adesso non facciamo più neanche la comunicazione non c'è più ci mortifichiamo ci imbarazziamo un po' e invece io qualche cosa la vorrei raccontare anche di quel buono che si riesce a fare in una situazione come questa e che fa il nostro partito in tutte le regioni nel frattempo in tutte le città che amministriamo nella vita che pulsa nel nostro paese insomma o siamo orgogliosi noi di essere del PD non possiamo chiederlo agli altri di dirci che lo siamo dobbiamo essere noi a trovare delle ragioni prima di eventualmente lasciare il microfono a alcune domande del pubblico io vorrei sapere invece molto più fattualmente quello che tu intendi fare a livello di politiche economiche lavorative sui diritti forse sembra quasi il caso di non parlarne perché dovrebbero essere dati di patto cioè i diritti per le coppie omosessuali per le coppie di patto e per le seconde generazioni parliamo di emergenze magari visto che siamo in piena crisi economica in una città che soffre di problemi dovuti al lavoro cosa intendi fare tu? ci trovi? hai incontrato il piccolo imprenditore il piccolo imprenditore l'ho incontrato che era arrabbiato con me mi ha staccato su facebook è un imprenditore di arcore lui è proprio arcorese perché mi sono un po' spaventato piccolo nel senso piccolo no media dimensione nel senso che mi pare ha avuto più dipendenti adesso non hanno una quarantina per cui non è proprio piccolissimo sapete in Brianza abbiamo imprese quasi molecolari quindi quella la consideriamo già una struttura imprenditoriale molto più solida lui fa imballaggi e racconta le storie difficili per esempio cose banali amministrative lui non riesce a togliere l'Eternit che dovrebbe essere una cosa positiva toglierlo perché il suo sindaco dice che ha bisogno del parere della sovrintendenza e sono bloccati e lui non riesce a togliere cioè a fare una cosa utile impazzisce cose banali impazzisce per la questione dell'Imu perché dice io l'Imu ve la pago subito il problema che vorrei capire è come formulate la proposta sulle tasse sul lavoro se intervenite sul cuneo se rendete più conveniente quale tipo di contratto o di strumento per dare lavoro perché io vorrei farlo ma c'è una grande confusione lo stesso dice sull'evasione fiscale e mi ricorda quello che cercavo a cui accennavo prima che l'evasione fiscale vera è quella verso la Svizzera o gli altri paesi anche molto vicini a noi anche nell'Unione Europea che ha una fiscalità vantaggiosa per chi vuole che ha una rendita diciamo e anche questo noi lo dovremmo dire in occasione della campagna elettorale delle europee quindi sono questi due temi immediatamente secondo me sono da affrontare dicevo del contratto unico di Boeri di dare garanzie subito immediatamente a tutti i lavoratori oggi abbiamo scoperto che i precari sono diventati la maggioranza bella scoperta non so se l'avete letto sui giornali il problema è che ancora oggi anche alcuni sindacalisti amici miei dicono eh ma tutti devono partire con un contratto a tempo indeterminato sì peccato che non succeda quasi mai e quindi a quelli che invece incominciano col tempo indeterminatissimo che anzi con formule ancora più brutali noi non gli diamo un diritto non gli diamo una buona uscita quando finiscono reiteriamo le prove di fatto allora la proposta di Boeri è quella di dare gradualità ma di rendere sempre più forte il lavoratore fino a che non diventa un lavoratore come quelli che conosciamo nella tradizione sempre che ancora ce ne siano allora questo è un tema sul quale discutere secondo me e questa è una misura da affrontare costa un po' di soldi cerchiamoli cerchiamo di capire quanti ne servono cerchiamo di capire se nel dibattito politico e faccio un altro esempio per me fortissimo quando Beppe Grillo in campagna elettorale parla di reddito di cittadinanza da tutti i mille euro è chiaro che noi dobbiamo dire che è una boiata di proposta che non ci sono le coperture però non è che la domanda non c'è o non ci sia e non è che il reddito minimo in Europa prima dicevo di essere più europei in tutti i paesi europei uno strumento del genere c'è costa troppo capiamo cerchiamo di capire cosa fare però non è possibile che noi abbiamo la situazione che conosciamo nel mondo dei precari dei lavoratori più giovani ma non solo ormai perché i diritti sono diminuiti per tutti da 15 anni e abbiamo parlato sempre di riforma degli ammortizzatori non abbiamo mai riformato niente non abbiamo costituito redditi di inserimento abbiamo dimenticato un'intera generazione guardate che si vede anche la crisi o alcuni suoi aspetti sono determinati dal fatto che quelli più giovani di me non hanno la stessa disponibilità al consumo a progettare il futuro a spendere a investire dei soldi perché non ne hanno sono marginali hanno e questo come lo risolvi se non dai mai un segnale da questo punto di vista e allora non possiamo limitarci a una risposta che lì lo sbaglia e no cerca di capire perché se il reddito minimo il reddito di inserimento può servire può essere un'inversione di marcia discutiamone chi lo può fare se non un grande partito e però ti invito a considerare una cosa non lo dico perché è facile e demagogico perché di solito le cose che ovvie che funzionano in questo paese diventano demagogiche ma tutta quella partita teniamola insieme agli altri argomenti cerchiamo di fare uno sforzo culturale perché il lavoro da solo non esiste parlare di lavoro e basta non ha senso il lavoro sta insieme ai temi dell'immigrazione e anche al dissenso rispetto a questi argomenti sta insieme ai temi dell'ambiente della tecnologia dell'innovazione sta insieme al fatto che ci sia qualcuno che studia che ha la possibilità di fare una scuola che ha la possibilità di guardate di trovare un paese che premia come dice la Costituzione i meritevoli ma anche perché gli dà un posto dove mettersi questi che sono che vogliono dimostrarsi capaci di avere un'alta formazione o le famiglie che investono in tutto quello uno sbocco allora teniamole insieme queste cose è un programma molto ampio che peraltro io non faccio da solo io sono uno strumento mi sono trovato a fare questa battaglia avrei preferito di no sinceramente avrei preferito che Bersani le elezioni no fossero andate tutte bene che noi avessimo un governo del PD che facessimo un congresso molto meno drammatico di questo lo dico sinceramente perché poi non è semplice avere no questa situazione però io insomma credo che noi dobbiamo provare davvero a fare il salto di qualità adesso proprio perché siamo in un momento così complicato dobbiamo provare a rilanciare altrimenti lo farà qualcun altro eh è così funziona così stiamo lì a palleggiare e poi qualcuno farà le grandi battaglie che noi ci siamo dimenticati scusami e dicevo per chiudere sono uno strumento e a me piacerebbe una grande campagna corale io mi sono già storpiato il cognome non è più Civati ma è Civoti cioè no nel senso che che ci sono tante persone che lavorano con me c'è Daniele Viotti che è torinese che si occupa di diritti ma ci sono le persone con cui interloquisco e con cui non mi stancherò di farlo perché se io ho la fortuna di conoscere Stefano Rodotà Maurizio Landini Romano Prodi o tanti altri o anche questi matti liberisti perché la cosa strana caro Gustavo io ho un sacco di amici che sono un po' di destra davvero ma che ragionano che non sono conservatori e che ti pongono delle questioni interessanti e noi non li consideriamo noi ci piace la destra conservatrice i liberali davvero ci sospettiscono tantissimo invece se io posso fare una campagna congressuale in cui stando a sinistra ragiono con chi fa cultura e chi fa politica in questo paese lo faccio perché ho una fortuna un privilegio lo vorrei fare insieme a voi sarebbe secondo me anche un bel modo per passare un autunno non facilissimo vorrei fare un'osservazione molto terra terra e pratica tu hai parlato di politiche per il lavoro hai nominato Landini mi sa che che coraggio ma proprio parlando con Landini qualche giorno fa si sono venute fuori delle cose che probabilmente nessuno di noi mi permetto di dire nemmeno di voi conosce cioè tutti i meccanismi di fatto che sono utilizzati per eludere o violare anche quelle garanzie che oggi esistono per il lavoro ancorché precario io sono rimasto sbalordito di fronte alla fantasia che nel nostro paese si utilizza per altro diciamo in una situazione di sottooccupazione come siamo noi è chiaro che i laboratori sono disponibili ad accettare qualunque vessazione pur di avere un minimo di uno straccio di impiego retribuito in maniera irrisoria e umiliante ecco ma voglio dire forse qui davvero nel campo del lavoro si dovrebbe mobilitare la conoscenza pratica dei problemi si reddito di cittadinanza poi sarà difficilissimo poi in un paese come l'Italia evitare che il reddito di cittadinanza diventi farlo bene sì ma diciamo i discorsi generali se si riuscisse invece a a far parlare coloro che sulla propria pelle qui in Piemonte abbiamo le boite tu sai cosa sono le boite te lo spiego poi dopo diciamo il trasferimento del lavoro fuori dai luoghi che sono in qualche modo protetti ma questo è lo strumento più banale per eludere e il sindacato non riesce ad agganciare queste persone perché sono persone che per se stesse per prime dicono non vogliamo essere tutelati dai sindacati perché non avendo nessuna protezione dicono se mi rivolgo al sindacato poi ne pago le conseguenze allora un partito politico forse sì ragionare sui temi generali ma anche mobilitare le conoscenze sul come si usa dire sul territorio e qui secondo me nel campo del lavoro il discorso che si faceva prima come si fa a rianimare un interesse politico a motivare le persone a un impegno forse questo è un campo da esplorare come dico poche parole ma fatti abbiamo tempo per delle domande c'è qualcuno che vuole fare delle domande c'è qualcuno che passa non so come fare dalla regia volevo fare una domanda a Civatti io ti ho sentito l'altra sera con l'onorevole mi pare che fosse la no la 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 biancofiore la biancofiore no l'ultima volta non è la biancofiore comunque comunque a di là di questo io parlo faccio una domanda sul problema dell'Imu io sono convinto che il partito democratico non sia dispiaciuto che è passata la proposta dell'Imu la proposta della Pdl e quella è una proposta del Pdl e se ne vantano io sono convinto perché all'interno della stragrande maggioranza dei dirigenti del partito hanno le case anche loro e non vogliono pagare l'Imu anche loro questo è il problema grosso a livello nazionale questo è un problema che dobbiamo porcelo poi un'altra domanda ti faccio e la faccio con molta sincerità io ho 43 anni di contributi versati e percepisco 900 euro al mese 43 anni ma non è un problema personale perché ci sono quelli che prendono 400 o 500 euro al mese ma quando è che voi fate un volantino visto che prima dicevi che sono mesi e mesi che non si vede un volantino ma qual è il programma del PD dove sta il programma del PD dobbiamo aspettare il congresso per sapere cosa vuole il PD ma siamo capaci a fare un volantino e dire che le pensioni d'oro devono essere eliminati che una pensione di questo genere in un paese così critico di una crisi così importante non si dia una battaglia a livello di sinistra il nostro partito ha il compito di guardare queste cose no coro compagno lascici sfocare cazzo parlano tutte le sere loro e noi parliamo anche noi ma dai su smettiamola smettiamo diamo la parola al pubblico parlate parlate perché è ora di parlare appunto sono qui per dare la parola e far intervenire altre persone ed erano domande ciao Pippo allora velocemente sei favorevole a uscire dalle euro sì o no e poi sul pareggio di bilancio dopo che lo Stato spende per esempio 100 e poi si riprende 100 con le tasse cosa resta i cittadini? zero cioè chi è che è in mente del denaro nuovo al netto nel circuito privato? non pensi che dovresti fare della moneta uno dei tuoi argomenti principali per la campagna elettorale? grazie posso? allora io vorrei farti questa domanda intanto non vorrei penalizzarti nella risposta schierandoti da una parte o dall'altra perché so che in questo caso io lavoro in Fiat inevitabile a Torino parlare di Fiat io ho cominciato a inizio anno lavorando tre giorni al mese sono passato tre giorni al mese ma un mese sì o un mese no 60 giorni per fare tre giorni di lavoro e il resto cassa integrazione adesso da maggio non mi hanno più chiamato e sono nella condizione migliore perché quando è finito il modello Musa Idea qua a Torino da giugno dell'anno scorso i miei colleghi non sono più rientrati in Fiat cioè come si fa in questo paese a chiedere le multinazionali che abbiamo qua inglesi svedesi eccetera che una volta alla settimana chiudono le proprie aziende per andarsene via come si fa a dire di essere corretti a loro quando non si riesce a dire nulla sulla multinazionale italiana che è la Fiat io dico che risolvere gran parte dei problemi di questo paese basterebbe a risolvere il problema Fiat Finmeccanica e l'ILVA di Taranto perché in questo paese purtroppo si muore di lavoro al contrario lavoro che non c'è grazie Buonasera io avevo un po' di dubbi sul ruolo degli iscritti e dei simpatizzanti non ho ben capito in che modo gli iscritti possano prendere parte delle decisioni del partito se lei ha già qualche idea riguardo questo e poi una domanda un po' polemica ma è vero che lei ha votato per il 98% come quell'altro esponente del PBL che avevo visto su Scanzi ora non mi ricordo bene il nome io ho due domande una per Pippo una per il professor Zagrebelsky allora Pippo vorrei chiedere l'altra sera facendo una riunione per il comitato di Torino Sud per Civati un militante chiedeva Civati dice in modo molto chiaro che cosa vuole per il paese anzi io aggiungo che è uno dei pochi che dice in modo molto chiaro che cosa vuole per il paese ma che tipo di PD a livello di organizzazione ha in mente ad esempio che ruolo vuole dare ai circoli qualora venisse eletto come segretario e invece il professor Zagrebelsky vuole richiedere qualcosa che riguarda un po' di più la nostra forma parlamentare il fatto che in questo momento si legiferi solamente tramite il decreto legge che quindi si fa solo in caso di necessità e urgenza significa che veramente viviamo in un momento in cui c'è necessità e urgenza e che quindi tutto quanto deve essere giustificato significa che dobbiamo modificare la nostra forma parlamentare o anche questo è una semplice deriva della nostra democrazia che quindi viviamo sia a livello politico che istituzionale grazie mi chiamo Giovanni la domanda è a entrambi perché ho ascoltato con molto interesse quello che voi avete sollecitato io mi pongo questo problema se è vero ed è vero che noi stiamo consumando più risorse di quelle che abbiamo e quindi il problema della sostenibilità è un discorso troppo serio perfino prioritario per la vita per la vita di tutti mi chiedo anche tanti anni fa quando ero iscritto al pc c'era la base che veniva ascoltata nel senso che nelle sezioni i tecnici chi sapeva fare delle cose che era in fabbrica che acquisiva delle capacità erano convocati per vedere insieme che cosa essere capaci di fare e la domanda è ma siamo capaci che non abbiamo sempre bisogno di marchionne o dei padroni per fare soddisfare dei bisogni fondamentali la nostra casa i trasporti il cibo la solidarietà perché ognuno abbia la possibilità di sovvenire perché possiamo essere insieme se non siamo capaci da soli e non siamo mai capaci da soli di per esempio risparmiare energia nella nostra casa con un altro un altro amico un altro compagno riusciamo a saper fare queste cose cioè in sostanza se si affrontasse sul serio questo problema di quello che si chiama sviluppo e che ha a che fare con i bisogni fondamentali della vita ma forse siamo capaci di farli da soli non siamo più capaci perché siamo costretti a fare quel denaro che poi il biscione fa rigirare e quindi siamo noi che produciamo come consumatori ma siamo capaci di nuovo essere più produttori delle cose che siamo capaci di fare ecco io credo che questo sia una cosa che va riascoltata e smetterla di parlare perché questi sono i comportamenti reali che nella vita quotidiana possiamo riaggregare ed essere capace di risolvere da soli molti problemi creando un'economia dal basso grazie mi chiamo Ugo Monzeggio sono del cerco di Rivoli e io non ho ancora deciso per chi voterò al prossimo congresso quindi come me penso che molti altri anche presenti questa sera stiano sentendo i candidati i programmi quindi bisogna avere la mente il gombra io come dire a me ha detto molto che con Bersani non siamo riusciti a vincere credo che sia il primo a essersene convinto Bersani qualche settimana prima del voto l'ha detto l'altra sera a Ravenna alla festa del partito esaminando questa situazione la domanda che pongo attivato sono due io non ho sentito in tutta questa discussione un patto di solidarietà tra le generazioni che è quello che ci manca perché oggi chi va in pensione e le pensioni vengono allungate nel tempo non trasmette ai giovani con l'apprentistato come si faceva una volta le conoscenze che ha cioè noi dobbiamo ripristinare mi sembra che quando il professor Zagrebetsky parlava delle boite una volta nelle boite o nelle piccole aziende c'era l'apprendista che apprendeva e sostituiva poi quello che andava in pensione quindi questa è una prima cosa importantissima altrimenti avremmo lavoratori precari a vita perché io ho due figli ad esempio che sono usciti dalla scuola hanno una buona teoria ma non hanno la pratica e quando tu fai il curriculum adesso siamo tutti su internet ma andiamo via milioni di curriculum nessuno ti risponde perché ti chiede che esperienza hai avuto allora su questa Pippo vogliamo provare a ragionare a vedere come è possibile creare un circuito positivo tra l'anziano ad esempio come fanno in Germania che negli ultimi due o tre anni fa il part time riceve i contributi pieni e trasmette ai giovani apprendisti le sue conoscenze e l'altra cosa è sui contratti di solidarietà cioè noi dobbiamo fare in modo che non si sia una divisione quando c'è una crisi tra chi sta dentro e chi sta fuori ma suddividere il lavoro in modo tale che compartecipa l'impresa il lavoratore lo Stato e quando si riprende vedi il modello Volkswagen sei più forte e più preparato di prima nella competizione internazionale grazie faccio io dico solo due parole poi tu avrai tutto lo giusto spazio che ti rispetta l'osservazione che faceva il signore con i capelli bianchi non so ecco sì mi fa piacere che lei abbia proposto questo tema possiamo anche allargarlo allargarlo su scala addirittura mondiale nulla nel nostro mondo è eterno nemmeno la finanza mondializzata nemmeno questo sistema che sarebbe interessante discutere che ci fa complici e al tempo stesso vittime sarebbe interessante cercare di capire com'è che c'è questo questa innaturale congiunzione di posizioni quando le grandi dimensioni cioè nella storia dell'umanità non si è mai realizzato un sistema di governo politico economico con grande come l'attuale mondiale quando i grandi imperi sono crollati Alessandro Magno l'impero romano il sacro romano impero da dove sono nate le forze vitali dal basso dal basso e quante possibilità noi avremo di sollecitare le forme dal basso lei faceva degli esempi il consumo comune il risparmio energetico la produzione comune a Torino in Piemonte abbiamo Carlin Petrini che è un genio nell'inventare novità sul piano della produzione conosciamo queste energie dal basso la politica non avrebbe oggi il compito fondamentale di ascoltare e poi favorire il nostro avvenire non è l'Ital Sider come l'Ital come si chiama non è la produzione non è l'industria pesante il nostro avvenire non è questo finita quell'epoca bisogna immaginare qualche cosa più che immaginare la politica dovrebbe fare un atto di umiltà è passato il tempo in cui le società si governavano secondo una parola che a me è molto cara ideologia la parola ideologia non è affatto una brutta parola l'ideologia è il discorso sulle idee logos sulle idee l'abbiamo squalificato per ragioni ideologiche questo termine ma invece è un bellissimo termine va bene lasciamo perdere questo ma questo è proprio davvero il tempo in cui io credo che la politica debba stare in ascolto delle energie spontanee che sono i cittadini mettendosi insieme che riescono a produrre naturalmente bisogna favorirle questa cosa bisogna conoscerle e favorire la domanda della chi era sul decreto legge e la funzione ecco brava signorina disegnerebbe fare un lungo un lungo discorso diciamo l'ipertrofia della produzione normativa del governo deriva secondo me in questo momento dal fatto che sulle cose che riguardano l'economia la tenuta dei conti eccetera eccetera il Parlamento deve stare fuori deve dico deve dal punto di vista di chi utilizza il decreto legge in questo modo abnome è chiaro che non si tratta di atti di necessità urgente il decreto legge lo si fa per cavalcare la funzione legislativa quando prima dicevo che la politica si è ridotta alla gestione dell'emergenza dell'emergenza economica l'emergenza economica è naturale che passi attraverso i programmi i programmi di governo mentre le iniziative parlamentari che possono essere quelle che toccano i diritti civili che toccano tutta l'altra gamma di questioni che interessano direttamente il popolo italiano danno solo fastidio danno solo fastidio ecco se se noi pensiamo a una riforma ho visto che c'è un dibattito sulla riforma costituzionale in questo in queste giornate che è intitolato in maniera per me assai sorprendente perché si dice cambiare la costituzione per attuare la costituzione mi sembra un po' qualcosa tipo l'uroboro una cosa di questo genere cambiare la costituzione per attuare la costituzione ecco quando si tratta di questo tema del presidenzialismo in una delle sue tante forme guardate che questa sarebbe la codificazione della prevalenza del governo e della immaginazione del Parlamento e questo non è un fatto tecnico il fatto è una visione della politica valorizzare il governo significa valorizzare una dimensione politica che dall'alto scende verso il basso valorizzare il Parlamento significa valorizzare della politica la dimensione partecipativa ci spacciano la proposta presidenzialistica come una misura efficientistica voi sapete che su queste riforme istituzionali il governo ha aperto una pseudo consultazione via internet lo sapevate? per fortuna ecco mi dispiace di avervi dato una notizia che avrei fatto meglio non darvi perché le domande sono di questo genere volete voi una riforma costituzionale che consente di decidere in tempi certi senza subire il blocco delle lobby e chi di noi non risponderebbe di sì certo che vorremmo una cosa di questo genere ma e così si presenta la riforma presidenziale come una riforma efficientistica ma se uno va a vedere che cosa c'è dietro c'è una opposta concezione della democrazia rispetto a quella che sta scritta nella Costituzione che invece è parlamentaristica naturalmente la vita politica che si fonda sulle forze parlamentari diciamo è più difficile comporta più sforzi più confronti più compromessi ma la democrazia è questa io non vedo altra democrazia l'altra è una autocrazia di investitura popolare il presidenzialismo qui faccio io una domanda a Pippo Civati come ci comportiamo sul tema presidenzialismo diciamo diciamo che siamo contrari però poi vediamo oppure no 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 io sono io sono contrario e anche un po' spaventato dal fatto che il PD sia diventato per due settimane tutto presidenzialista per poi far emergere qualche perplessità subito dopo noi abbiamo un presidenzialismo settimanale che non so se no ma è successo a luglio se andate a leggervi le interviste di quei giorni c'è stato un escalation presidenzialista e poi qualche forse sì sì un po' tutti poi insomma io sarei invece per capire come far funzionare quel Parlamento quantomeno perché forse ci sono appena arrivato in un momento così bizzarro e sicuramente questo bicameralismo è da rivedere però sono da rivedere tante cose perché alla fine questo meccanismo dei decreti è un meccanismo vertiginoso dal punto di vista del dibattito e nel rimbalzo tra Camera e Senato non sempre il testo si migliora in un paese fatto con i comportamenti che dicevamo per cui ti seguo sulla questione cerco di essere veloce perché vedo che vi state sciogliendo per colpa mia voterete tutti Cuperlo ma io vi voglio bene lo stesso e no io dicevo prima per me il nuovo è a sinistra ho questa idea un po' fuori moda e quindi non ho io non ho mai avuto simpatie non ho mai avuto simpatie per le scorciatoie gli uomini forti le idee brillanti cioè questa cosa di Marchionne è il motivo per cui abbiamo litigato con Renzi per la cronaca stasera non me l'ha chiesto nessuno ma sono io ormai condizionato da questa mi faccio la domanda da solo uno dei motivi per cui abbiamo litigato è che dire che se si sta con Marchionne senza sé o senza ma per me è proprio una cosa sbagliata perché se si sta con Marchionne bisogna moltiplicare i sei ma io che non sto nemmeno con Marchionne vorrei capire anche rispetto come dire alle questioni che sono state poste perché è giusto l'esempio che diamo noi con la nostra multinazionale verso le altre è proprio lì il problema e forse essere più chiari rispetto a quello più informati rispetto a quello che succede in giro per l'Italia nel gruppo Fiat sarebbe utile a tutti un po' per rispondere anche alla alla sollecitazione di prima di Zagrebelsky per cui una posizione io l'ho sempre presa la prendo anche questa volta non mi cambia molto e devo dire la verità lo dico sommessamente ma bisogna smetterla di fare le caricature invece di persone come Landini che non è che io non sono della FIOM non sono metalmeccanico e non faccio lo spiritoso quando vado a trovarli alle manifestazioni o ai dibattiti non è che ci scambiamo i posti ognuno tiene la sua autonomia ognuno la pensa come prima però io sono curioso di capire che cosa dice un sindacato come la FIOM sono curioso e rispettoso delle battaglie costituzionali per la difesa e la rappresentanza del lavoro sono rispettosissimo e guardate che noi non possiamo essere superficiali su queste cose ieri l'imprenditore mi dice tu devi parlare meno di Landini io voglio convincere l'imprenditore che facciamo del bene a lui ma che ragioniamo insieme a Landini si può fare perché altrimenti facciamo ripeto ci sono altri che sono più disinvolti e più capaci lo stesso questa battuta sul fatto che il PD ha votato l'IMU perché ci abbiamo la casa io sono in affitto e do un'informazione così almeno anzi pagherò la service tax per il mio grazie al governo delle larghe intese per cui non c'è un problema però come segnalavi tu di comprensione anche delle proporzioni della classe politica lo ripetiamo questa cosa le pensioni d'oro 90.000 euro al mese quando è uscita ha lasciato tutti estere fatti e su questo io ho chiesto anche di capire come sono le retribuzioni nel pubblico impiego a tutti i livelli come sono scelte stabilite se c'è un tetto che vogliamo darci se ce lo diamo una volta per tutte però perché il governo Monti ci ha approvato ma la norma non era costituzionale alla fine quelle riforme non si riescono mai a fare i parlamentari del PD i parlamentari in genere guadagnano troppo e c'è un modo molto semplice per spiegarlo perché noi ogni mese diamo 3-4 mila euro al partito quindi come fai a spiegare alla gente che non è del PD che quei 3-4 mila euro non sono di troppo se vivi lo stesso sono banalità mi rendo conto ma su queste piccole cose a spiegare che quei 4 mila euro li lasciamo più volentieri alla Camera che troviamo un modo per finanziare il PD diverso su quelle cose recuperiamo molta credibilità passiamo un po' meno per gente che si arricchisce perché appunto le proporzioni sono quelle è un partito che chiede 30 mila euro per candidarsi alle elezioni è un partito che fa operazioni secondo me che sono un po' fuori dalla storia perché non si capiscono sono quasi ricattatorie per alcuni e siamo accusati e forse nemmeno noi le capiamo più nemmeno i nostri elettori le capiscono più quindi c'è un problema di eguaglianza chiamiamola così basta con gli pseudonimi anche l'equità che così non disturba è un termine c'è un problema di eguaglianza perché la classe politica è diventata insopportabile non solo perché ha visto crescere le sue remunerazioni ma perché sono crollate le remunerazioni degli altri perché se un precario se uno della mia età che fa il precario guadagna un decimo un quinto un settimo di quello che guadagno io come parlamentare è inspiegabile è un problema difficilissimo impossibile da spiegare ingiusto moralmente ma politicamente insostenibile perché precario e salario che è un'altra parola che salario non ne parla più nessuno perché non sta in vecchio come termine però il problema dei salari è davvero anche quello di scusatemi dei precari è anche quello di non avere una remunerazione decente oraria come dire alla fine del mese quando al mese c'è tutto quindi su queste cose ci vuole molta umiltà e molta pazienza non per far demagogia però e finisco su questo punto perché chi dice abolire il finanziamento pubblico ai partiti e basta la fa troppo facile non è così lì bisogna riformularla bisogna togliere il rimborso automatico bisogna evitare il giochino perché qualcuno si compra le case le finanziarie eccetera l'usi e ombre su di noi bisogna trovare però il modo per spiegare che di là hanno la soluzione ereditaria voi sapete c'è già pronta Marina io ho una bambina molto piccola di dieci mesi l'ho detto ci sarà anche per te un Berlusconi per cui preparati glielo sto iniziando a far capire però la via ereditaria di potere a noi non ci interessa noi vogliamo poter essere in pochi e sfidare come dire grandi colossi ci piace la democrazia così e allora forse dobbiamo studiare delle formule che anche peraltro quando sono degli sconti fiscali sono finanziamento pubblico lo dico a Enrico Letta che lui dice abbogliamo il finanziamento se però metti che è tutto detraibile o deducibile addirittura il tuo finanziamento lo Stato sta facendo la sua parte altrimenti ci prendiamo in giro ero a Bari dicono la monge e la pong la monge e la pungi si cerchi di tenere che è un tetto per me influentissimo per spiegarle larghe intese la monge e la pong da ultimo da ultimo la questione fondamentale come? ah sull'euro io non sono per uscire dall'euro dove sei non sono per fare sono per fare un dibattito se vuoi però un po' più seriamente di un minuto stasera no lo dico per me non per la tua domanda esatto invece ti posso dare forse una soddisfazione io quando abbiamo votato il pareggio di bilancio non l'ho capito in Costituzione non l'ho capita proprio ancora adesso però dopo sulla moneta ne discutiamo facciamo impegno a fare un dibattito in chiave congressuale non solo per i prossimi mesi su questo argomento così ci viene diciamo di tutti i colori e arriviamo a dire cose sensate però dall'euro secondo me se uscissimo saremo dei pazzi soprattutto in questo momento detto da ultimo no da ultimo la questione fondamentale dei circoli lo dicevo prima noi abbiamo un gruppo di persone che si iscrivono al PD che è di 500 mila persone più o meno il gruppo di militanza è ancora più ridotto diciamo 200 mila in tutta Italia sono numeri piccolissimi in realtà troppo piccoli però ripartiamo da quelli come si fanno possiamo immaginare di coinvolgere 200 mila persone in una consultazione sulle questioni fondamentali di una stagione di governo secondo me sì con quali strumenti ragioniamoci insieme però negarsi la possibilità di farlo negarsi la possibilità di informare chi si iscrive e farlo sentire partecipe sugli argomenti che gli stanno a cuore come posso esserlo io che sto in Parlamento è sbagliato la militanza è questa cosa qui ci sono degli strumenti portentosi che sono quelli della rete ma c'è anche la presenza territoriale e le due cose non sono in contraddizione io sto girando il paese da anni a dire questa cosa internet non è contro i circoli internet parebbe funzionare meglio i circoli internet non si risolve nel click serve organizzare una grande rete di persone che dialoghi da Torino a Mazzara del Vallo sull'argomento che interessa guarda caso Mazzara del Vallo e Torino non c'è bisogno di risalire le gerarchie parlo col mio bello segretario provinciale che poi parla con il segretario regionale che parla con il responsabile economia del PD che poi parla con quello del Molise ma no organizziamo lo dice Barca nel suo documento e lo ripeto organizziamo un partito che si muove anche a livello orizzontale non nel senso che a cui siete abituati orizzontale ma dal punto di vista metodologico ma tonico dal punto di vista delle idee dei contenuti altrimenti facciamo una cosa strana noi abbiamo le buone pratiche che sono una disciplina olimpionica ci sono le buone pratiche e poi la politica non è buona in Italia ma com'è possibile facciamo emergere la struttura di quelle buone pratiche facciamola diventare proiettiamola nell'iniziativa legislativa nelle scelte di governo anche nei messaggi che diamo perché lo voglio dire ma se questi parlano per sei mesi di IMU la gente pensa che ci sia solo l'IMU funziona guardate che la comunicazione e il messaggio funziona noi che quali sono le battaglie sulle quali vogliamo dedicare i prossimi mesi e la nostra vita politica quello è il punto e dobbiamo ripetere non in modo robotico perché noi siamo persone liberi ognuno la dirà nel suo modo però dobbiamo insistere su argomenti a cui perché la battaglia come si diceva prima è culturale prima che politica e secondo me è di lungo corso quindi un partito partecipe coinvolto organizzato perché più è leggero più il partito deve essere organizzato questo equivoco tra solido e liquido era una boiata totale questa roba qua siamo andati avanti vent'anni tu come lo preferisci solido che è anche una domanda bizzarra non lo so a me piace anche un po' liquido e in realtà Obama che è il nostro il partito americano in Italia l'abbiamo tradotto male perché il partito americano è organizzatissimo e fa una cosa oltre a usare la rete i territori a invitare le persone a partecipare e a fare campagna elettorale vi ricordate quando le facevamo noi ormai non si usa più di dire prendi fai il porta a porta negli Stati Uniti ti dicono anche dove devi andare e se c'è un collegio già vinto ti dicono vai in quell'altro perché lì ci sono un sacco di repubblicani da convincere o da tenere chiusi in bagno non so usano dei metodi diversi per cui il partito americano l'abbiamo tradotto così ma oltre a questo loro studiano e la mia proposta rivoluzionaria è che noi non facciamo più le fondazioni di ciascun leader basta delle fondazioni che sono comitati elettorali per raccogliere i soldi che nessuno ne facciamo una sola del PD ci mettiamo uno come Barca come Zagrebelli adesso Zagrebeschi lo coinvolgiamo a pieno titolo scherzo così lo metto un po' in imbarazzo per rovinare la serata a tutti ma coinvolgiamo una personalità come Fabrizio Barca fa lui il presidente della fondazione non risponde al segretario tutti i giorni ha un suo lavoro si fa votare noi gli argomenti li discutiamo insieme e poi ha la sua libertà di indagine fa emergere queste cose di cui i giornali non parlano ma magari non ne parlano adesso ma fra qualche mese avremo gli argomenti per farne parlare facciamone solo uno di struttura di pensiero di elaborazione come ce l'hanno nei paesi c'è in Germania c'è in Francia ci sono queste strutture che consentono a noi di fare meglio le nostre proposte e di avere degli ambiti in cui ragionare che non sono spressati dalla quotidianità altrimenti parleremmo solo di IMU tutta la vita senza vedere tutto quello che c'è intorno da ultimo e su questo secondo me noi dobbiamo ragionare abbiamo il dovere di spiegare ai nostri politici a tutti i livelli che una cosa è la politica e una cosa è il potere che certo la politica è finalizzata ad un uso intelligente moralmente conseguente del potere ma che i migliori politici hanno un'attività che è anche autonoma rispetto all'esercizio del potere che lo è come diceva Zapatero che è uno di quelli che siccome non vince più non lo cita più nessuno ma no vi ricordate quanto lo si dice tutti i zapateristi eravamo diventati Zapatero diceva che i migliori uomini di potere sono quelli che diffidano del potere che non si appassionano al palazzo che hanno voglia di mettere in discussione la propria posizione ecco il nostro partito deve essere un partito che fa soprattutto quel lavoro di studiare non dei modi per far cadere governi di qualsiasi genere ma per immaginare che cosa si può fare di più che cosa si può fare di più anche rispetto a quello che vediamo rispetto a carriere politiche che sono troppo lunghe magari a carriere politiche che non riescono ad interrompersi mai a persone che smettono di fare il parlamentare vanno in una partecipata perché hanno l'horror vacui mi dice l'amico del fatto sta facendo un riferimento che non farò a una fondazione bancaria ma non ho capito di cosa stava parlando quindi è lui che è malizioso quindi però c'è da spiegare cioè noi quando c'è da fare una scelta dopo esserci riempiti la bocca è la parola merito che è una parola che noi malinterpretiamo ma ne parliamo un'altra volta quando abbiamo finito così quali sono le persone che mandiamo a dirigere un'azienda l'altro giorno mi hanno raccontato di un aeroporto diretto da un chirurgo che ha lasciato non mi dico la città che ha lasciato tipo 20 milioni di buco meno male non so perché cioè potevano anche essere di più cioè a me se mi dicessero ci vatti tu non sei capace di fare segretario ma se ti metti d'accordo con Pittella Cuperlo Renzi vai a dirigere un ospedale ma no ma ragazzi ma siamo pazzi guardate che si è fatto io vengo da una regione tra l'altro dove questa cosa l'hanno praticata in un modo straordinario religioso loro sono molto religiose eh no però è importante perché a un certo punto caro Zagrebelsky e finisco con una nota simpatica ma questa è una delle questioni per cui la politica non la sopporta più nessuno ad un certo punto c'erano talmente tanti esponenti di ICL no ma erano tutti di comunione e liberazione che noi chiedemmo insieme a Carlo Monguzzi un mio strafittoso collega attraverso un ordine del giorno di votare che una quota di minoranza fosse riservata i noncellini un 20% cioè uno laico di qualsiasi uno juventino un Granata cioè uno diverso e quasi quasi passava perché anche la destra quella più liberale diciamo così si era un po' stufata generazioni di dirigenti che nominavano sottoposti che davano consulenze in un sistema perfetto però malato che è durato troppo e la questione dei mandati ve la ricordate no? fummo in pochi a sollevare la durata in carica del Presidente della Regione prendendoci anche delle lezioni di stile in realtà avevamo ragione perché l'ultimo mandato di Formigoni è stato quello devastante quello di troppo e peraltro per dire come però è importante oltre a dirle queste cose e farle io sono andato a Roma dopo 8 anni a fare battaglia a Formigoni e pensavo di essere tipo A tipo i film dell'orrore avevo chiuso c'erano i titoli di coda e mi sentivo libero poi Formigoni è stato eletto col Porcellum a Roma poi mi hanno messo due Ministri nel governo dell'Argentese di Comunità di Liberazione e Lombardi tutti e due Lupi e Mauro e poi abbiamo votato Formigoni Presidente della Commissione Agricoltura che quando non io al Senato e il PD un po' si è astenuto un po' erano a disagio quando me l'hanno detto io non ci credevo pensavo che fosse uno scherzo di un mio collega per dire che ne abbiamo fatte di cose un po' contraddittorie e un po' inspiegabili e per dire da ultimo che però il PD queste cose non le deve fare quando gli tocca di governare per tanto tempo lui deve praticare una cultura della competenza e dell'alternanza che sia la terza della situazione ultima cosa che vi dico e che prima scherzavamo per me l'importante è fare un congresso in cui tutti possano partecipare alla pari io se vinco sarò generosissimo se arrivo secondo forse è meglio perché il vice segretario secondo me è la carica più importante nel PD per cui vi chiedo provate a pensarci il segretario non ce l'ha dopo anche se ci piazziamo è la volta buona che dopo cambieremo le cose grazie le cose da chiedere sarebbero ancora tante ma se fatta una certa come si dice in certe parti abbiamo passato due ore in compagnia del professore Zagrebeschi di Civati l'appuntamento penso con gli dibattiti di sia domani e buona serata a tutti grazie